ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi unboxing voglio farvi vedere alcuni prodotti che mi sono arrivati in questo bel pacchettone è il mio primo video di soli unboxing in realtà sono comunque tutti utensili attrezzature per il fai da te dopodiché farò un video dedicato per fare la recensione specifica e vedere come si comportano non sarà il classico unboxing nel quale tolgo la plastichina e basta ma vi farò vedere letteralmente gli utensili da vicino li guarderemo li studieremo e poi le prove le farò separatamente in un nuovo video vi mando il sito smart us che si occupa di articoli per i fai da te ma non solo ma tutti articoli fighissimi come sono fighissimi questi che troviamo qua all'interno di questa scatola cutter cutter alla mano e iniziamo allora questo l'ho già aperto quindi non serve tagliare nulla apro direttamente la scatolina e qua dentro lo troviamo questo aggeggio che è un misuratore laser la togliamo la pellicola questo è solamente un esempio si toglie la pellicola abbiamo fra le mani questo aggeggino che si preme da questa parte è così come potete vedere abbiamo la misurazione quindi il classico metro laser che ci permette di leggere sia dalla parte iniziale che dalla parte finale del dispositivo da questa parte la presa usb tipo c per ricaricarla ed è della auto gruppo xiaomi ma c'era il qr code da inquadrare bisogna scaricare l'applicazione quindi la installo e vi faccio vedere come si utilizza connessione riuscita dispositivo associato fine imposta stanza quindi mi dà la possibilità pure forse di rilevare le misure di una stanza e quindi calcolare l'area insomma i vari angoli tutto ciò che vediamo nei misuratori laser che abbiano un display più grande come vedete abbiamo la possibilità di creare delle piante e disegnare su immagini già esistenti eccetera ma questo lo vedremo poi nella recensione approfondita perché dovete darmi il tempo di studiarlo per bene andiamo avanti ma giustamente vorrete sapere anche i prezzi allora vi ho detto li trovate sul sito smart us e lasciano tutti i link insomma tutti i riferimenti giù nel primo commento nella descrizione perché questi piccoli oggettini per chi è appassionato di fare da te sono anche degli ottimi regali quindi immaginate di regalare questo vostro amico un parente smart tascabile bello anche da vedere come tutti gli altri che adesso vi farò vedere quindi una buona idea anche visto che se vicino a natale come regalini di natale passiamo avanti vediamo cos'altro lo troviamo questo è un cacciavite anche questo di design sembra in alluminio confezione spettacolare quindi apriamo forse si apriva in questo modo sì un abitatore cacciavite anche questo in alluminio come vedete qua c'è scritto off 1 2 e 3 e se ci illumina anche il led nella parte centrale quindi il classico cacciavitino che ci permette di raggiungere zone difficilmente irraggiungibili abbiamo anche degli inserti in dotazione quindi per abitare e svitare tutti i componenti elettronici eccetera tra l'altro guardate gli inserti sono da 50 millimetri e non da 25 drittissimi ok xiaomi auto by xiaomi ragazzi già vi ho recensito qualcosina e sono rimasto soddisfattissimo va bene quindi il classico cacciavitino questo 123 sta a indicare poi il livello di frizione che impostiamo perché se vediamo su qualcosa è delicato abbiamo bisogno di poca forza invece quando vogliono abitare una vita un pochettino più tostarella allora ci vuole un po però riesce ad avvitare quindi senza pre foro facciamo una prova velocissima ok ragazzi è riuscito ad avvitare è andato pure un pochettino in profondità sulla superficie quindi una vita da quattro centimetri questo tipo di cacciaviti ci permette di utilizzarlo anche manualmente quindi per viti un pochettino più dura un pochettino più difficili da svitare basta fare mezzo giro e poi ok perfetto funziona abbiamo visto la prima prova poi faremo altre prove per vedere anche quanto è delicato ma intanto sappiamo che funziona funziona bene a questo bel led nella parte frontale con spegnimento ritardato quindi ci permette di accenderlo avvicinarci nella zona dove dobbiamo avvitare e avviare la rotazione per stringere le viti passiamo al prossimo prodotto anche di questo link in descrizione ma guardiamo questo che già con la plastichina opaca lascia intravedere il contenuto traste di inserti non saperlo anche questi da utilizzare con questo avvitatore oppure con quello che vi farò vedere fra poco classici inserti con in tagli pz ph da brugola una torx un paio di punte speciali e una punta piatta quindi queste ve le faccio vedere così direttamente da chiuse ma anche di questo giù nel primo commento nella descrizione tutti i link perché anche questo può essere un simpatico regalo associato per esempio a questo piccolo caccia vita che vi ho fatto vedere poco fa quindi mettiamo da parte e questa voi sapete io adoro le torce quindi se una torcia sono più che felice e mi sa proprio di sì piccolo manualino di istruzioni questa è praticamente una sorta di diffusore di luminosità bellissimo una mini a bajur tipo dell'ikea abbiamo una piccola scatolina che si alza in questo modo e troviamo il cavo usb tipo c per poterla ricaricare ragazzi è bellissima il design della auto xiaomi è davvero di altissimi livelli allora abbiamo un tastino di ascensione e poi un tasto lo sito s o s da questa parte abbiamo questo anellino che ha anche questo moschettone quindi possiamo metterlo nella cintura del pantalone eccetera ma lo zoom accendiamo ancora non l'ho studiata quindi non conosco le funzioni è anche molto luminosa ea una luminosità con un cerchio netto quindi ci permette di illuminare un ambiente senza avere un punto nel quale si focalizza di più la luce guardate anche l'ombra della mano luce nettissima solitamente queste lampade hanno un punto in cui si concentra la luce che può abbagliare poi un alone in questo caso abbiamo la possibilità anche di zoomare per raggiungere una distanza più elevata bellissimo vediamo anche le ss ok quindi in questo caso tra uno strobo premere di nuovo il classico segnale ss tipo morse bellissima in metallo alluminio pesante mettiamo anche questo diffusore luminosità si inserisce nella parte superiore incastro ok e quindi abbiamo la possibilità di diffondere la luce senza avere quel effetto netto che abbiamo visto poco fa ma un effetto un pochettino più diffuso comodissimo anche nel caso in cui si debbano fare delle fotografie perché le ombre vengono ammorbidite o comunque anche per fare segnali luminosi oppure lasciarlo in questa posizione appoggiato su una superficie per avere una luce diffusa all'interno di un ambiente quindi mille lumen anche di questo ovviamente faremo un video approfondito con prove in esterno prove in interno insomma vedremo come si comporta e ricevere un regalo di natale come questo per me può solo dare gioia perché davvero bellissima ma stiamo arrivando ai pezzi forti non ciò vedere prima in questo piccolo cacciavite che ragazzi è pesantissimo allora abbiamo questa parte dove troviamo il cavetto usb per poter ricaricare allora abbiamo un bellissimo cofanetto foto questa volta in plastica nella parte superiore e alluminio anche la parte superiore in plastica abbiamo solo questa cornice guardate il design e abbiamo dei bit è un piccolo cacciavite guardate anche l'apertura e anche la chiusura allora prendiamo però l'utensile in questione questo per fare il lavoro di precisione manutenzione sui droni eccetera per me è spettacolare ne possiedo già un paio questo ha un design particolare con queste richine però non mi piace il fatto che non abbia dei led nella parte frontale come vedete anche gli inserti sono posizionati in modo magnetico quindi non dobbiamo posizionarli attentamente ma basta prenderli poggiarli di nuovo nella sua sede e sono tutti con i tagli particolari quindi se ne sono un paio a croce un paio piatti e poi tutti in tagli di tipo particolare e ci permettono di svitare evitare tutte le varie vitine per esempio degli iphone eccetera vediamo la forza del magnete che riesce a tenere anche che bella forza riesce a tenere pure il peso del cacciavite che di per sé comunque non è pesantissimo e abbiamo quindi la possibilità di evitare e svitare coppia massima di 3 newton metro pesa 314 g e anche questo come regalo di natale ragazzi secondo me vale perché ricevendo un regalo del genere chiunque può farsi solo felice soprattutto se appassionato di modellismo droni eccetera perché gli dà la possibilità di avere tutto ordinato trasportarlo con comodità con una confezione così bella link in descrizione ma ci sono ancora degli inserti sono da 50 mm contro gli altri che invece sono da 25 mm con questo comodo supportino per tenerli ordinati anche questi con lo stesso tipo di intaglio questi da 25 e questi da 50 mm da utilizzare con quello che vi sto per far vedere questo io già vi ho fatto conoscere un abitatore xiaomi foto sono rimasto contentissimo pensate adesso è nel mio studio vediamo quindi questo ok a proposito di design una piccola borsettina un cofanetto semi rigido e all'interno questo piccolo cacciavite questo è piccolo ma penso che sia molto comodo guardate il tastino scorrevano nella parte posteriore molto comodo da utilizzare come tutti quei piccoli cacciaviti che si usano per il montaggio di mobili tipo ikea eccetera oppure manutenzione pc insomma tutto quello che si deve abitare con un piccolo cacciavite ancora non l'ho acceso spero che sia carico ma vedo che anche in questo ci sono i led ok senso orario essenzione orario allora dovrebbe avere perché questi hanno tutti una velocità che oscilla fra 200 e 250 giro al minuto che sono studiate appositamente perché la velocità giusta per poter gestire la forza non avendo una frizione del potere limitare la coppia con un numero di giri limitato e riusciamo a fermarci in tempo e non rovinare i mobili perché si rovinano mobili anche con 5 litro al metro vediamo quello che c'è all'interno della confezione degli inserti come quelli che vi ho fatto vedere poco fa quindi se comprate questo non avete bisogno di comprare gli inserti con lo stesso tipo di intagli troviamo anche il cavo usb poterlo ricaricare quindi un piccolo cacciavitino comodo smart ed essendo vicino a natale eventualmente sceglietelo di colore rosso è più a tema e ora l'ultimo non per importanza ma perché voglio lasciare dulcis in fondo voglio lasciare il prodotto che mi piace di più l'avvitatore cacciavite evitatore trapano come vogliamo chiamarlo che già vi ho fatto conoscere la confezione un poco differente ha delle funzioni eccezionali perché è uno di quegli avvitatori che tramite un display avendo 30 newton metro di coppia ci dà la possibilità di gestire la forza con cui deve avvitare un newton metro per volta guardate che bello anche la cura come vedete c'è questa plastichina perché confezionato per evitare che questa finitura bellissima si rovini a una sorta di soft start nella parte posteriore c'è un display che è protetto da questa plastichina quando ho fatto la prima recensione la plastichina l'avevo rimossa perché io prima gli utensili di testo di testa a lungo dopo di che vi recensisco quindi come vedete in questo caso abbiamo una coppia di 5 newton metro che è possibile regolare tramite questo tastino più e meno in questo caso sono 12 newton metro questa serve per abitare quindi la velocità 1 che ha più coppia e meno velocità questa invece velocità 2 che più veloce ma meno potente mandrino autoserrante basta girarlo in questo modo per stringere le punte di trapano che vengono date pure in dotazione queste sono le punte di trapano sia per metallo che per legno proviamone una a caso non è dritta al cento per cento però va bene come punta omaggio diciamo compresa nella confezione va benissimo anche di questo link in descrizione per poterlo acquistare insomma poter valutare poter guardare tutte le varie caratteristiche eccetera ottimo avvitatore che vi recensirò vi farò alcune dimostrazioni per farvi vedere come si comporta e sia per abitare che per svitare che perforare va benissimo 30 newton metro che ha effettivamente sono sufficienti da abitare svitare praticamente tutte le viti che si possono utilizzare se non vi occupate di edilizia oppure di lavori estremamente difficili anche per questo vi leggo due caratteristiche tecniche velocissime quindi la velocità massima la seconda velocità di 1400 il giro al minuto come vi dicevo 30 newton metro di coppia massima 12 volt per quanto riguarda la batteria da 2000 millian per ora con motore brushless che non richiede nemmeno manutenzione perché i motori che non sono brushless richiedono nel caso in cui si consumino le spazio di doverle sostituire poi invece ci dobbiamo preoccuparsi solamente ricaricare la batteria abitare svitare e forare senza problemi papà che mi compri per natale se tu stesso un regalo di natale allora ragazzi io mi sono divertito da morire a fare questo video è il mio primo video di soli unboxing così con descrizione rapida spero che vi sia piaciuto fatemelo sapere scrivetemelo nei commenti agli utensili mi piacciono tantissimo quindi oltre a divertirmi a fare il video farvi vedere qualcosa che effettivamente è valido anche se sono ripeto oggetti di design però sono degli oggetti che regalati sicuramente vengono apprezzati per le loro finiture e hanno delle ottime prestazioni sappiamo che show mi produce da tv a bici attrezzatura robot da cucina produce di tutto e sono tutti i prodotti di ottima qualità quindi anche in questo caso abbiamo dei prodotti di ottima qualità fatemi sapere se il video vi è piaciuto quale prodotto vorreste recensito per primo cercherò di rispondere a tutti tempo permettendo ma nel più breve tempo possibile comunque cercherò di rispondere a tutti iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per attivare le notifiche cliccate anche sul pollicione all'insù per farmi sapere se il video vi è piaciuto oppure no ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto